Il principe William ha condiviso una nuova foto online per stuzzicare i fan reali prima della sua ultima intervista televisiva, i fan dei Royal sono andati in delirio questa mattina dopo che l account twitter ufficiale di Kate e il principe William hanno condiviso una foto scattata durante l'imminente intervista del duca di Cambridge. Nello scatto, il duca sorride mentre tiene in mano una carta che mostra il logo di BBC Newscast e guarda l'imittente Adam Fleming, la conversazione di 30 minuti tra il futuro re e l'imittente è stata registrata a Kensington Palace. Si concentra sul premio ambientale di William, l'Earth Shot Prize, e vede il duca discutere del cambiamento climatico e commentare clip della serie in 5 parti recentemente trasmessa The Earth Shot Prize, Repairing Our Planet. Durante questa docu-serie della BBC, guidata da William, sono stati presentati al mondo i primi finalisti dell'iniziativa e i loro progetti. Questo episodio speciale del BBC Newscast sarà trasmesso giovedì alle 23.35, in vista della cerimonia di premiazione dell'Earth Shot Prize. La prima cerimonia del premio. Durante la quale 5 vincitori riceveranno un milione di sterline ciascuno per dare vita ai loro progetti che combattono 5 pressanti questioni ambientali, si svolgerà domenica alle 20 presso l'Alexandra Palace di Londra. Proprio come la serie recente, i premi saranno trasmessi dalla BBC sul suo canale World Service. L'iniziativa ha ricevuto il sostegno di diversi allisters, molti dei quali dovrebbero percorrere un tappeto rosso di colore verde durante la serata di premiazione, che vedrà anche esibizioni musicali di Ed Sheeran. Coldplay, Shawn Mendes, KSI e IEM Jalade. Dopo l'anteprima di Kensington Palace nel prossimo programma, i fan reali hanno espresso la loro eccitazione su Twitter. L'osservatore reale Kayla Adams ha twittato, sì. Non vedo l'ora di ascoltare giovedì. Un fan account del duca e della duchessa di Cambridge chiamato Cambridge Court ha scritto, sembra un'intervista divertente. Non vedo l'ora di vedere.